che mi hanno sostenuto in questo anno e sono entrato con le vostre grazie. Vi ringrazio di cuore a tutti, veramente grazie, grazie alla Madonna che ho visto questo giorno e sono riuscito fino a quest'ora di venire la festa. Grazie di cuore e che dì inizio alla festa, grazie. Cominci alla festa. Vieni proprio sotto al quadro. Grazie. 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 aga. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.